pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica celebriamo la solennità della santissima trinità che insieme all'incarnazione del verbo di dio cioè gesù il figlio di dio che si è fatto uomo è uno dei due misteri centrali della fede cristiana il figlio di dio si è fatto uomo e ci ha rivelato come sia dio in sé partiamo da un esempio se davanti a voi aveste una persona che non avete mai visto e questa persona non vi parlasse voi la potreste osservare cogliere dei particolari ma non sapreste qualcosa in più della sua vita della sua famiglia dei suoi gusti viceversa se vi parlasse vi raccontasse si narrasse a voi potreste capire molto di lei ecco il verbo eterno del padre la seconda persona della santissima trinità si è fatto uomo e quindi ci ha narrato come sia dio in sé un solo dio tre persone padre e figlio e spirito santo tutte e tre sono dio tutte e tre insieme un unico dio tenete conto che ovviamente qui è tipo cubo di rubri che insomma è un mistero la santissima trinità cioè è qualcosa che ci supera che non possiamo spiegare pienamente si tratta di dio e potremmo dire che la santissima trinità è come un immenso oceano d'amore nel quale siamo chiamati ad ad entrare a immergerci ma che non possiamo racchiudere nel secchiello del nostro cranio ora noi alla luce del testo del vangelo di giovanni 3 16 18 ci faremo aiutare da una categoria quella dell'amore per cogliere qualche sfumatura in più sul mistero trinitario e sulla nostra vita cioè ma che ha da dire la santissima trinità alla mia vita come può cambiare la mia vita vediamo un po gesù nel dialogo con nicodemo ad un certo punto dice dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico figlio perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna potremmo tradurre con abbia lo spirito santo la vita di dio in sé ecco quindi gesù ci fa quasi vedere l'operato particolare di ogni persona della santissima trinità proprio nel culmine della storia della salvezza il padre che invia il figlio il figlio che accoglie questo disegno d'amore e si dona per opera dello spirito santo si fa uomo dalla sua vita muore risorge per noi e diffonde lo spirito santo cioè da a coloro che credono in lui la possibilità di diventare partecipi della vita di dio ora potrebbe sembrarci aria fritta quindi qualcuno dice vabbè va qua si parla di cose estratte non niente di concreto in realtà è qualcosa di profondissimo e di decisivo per la nostra vita per capirlo dobbiamo fare i conti con la condizione nella quale nasciamo noi nasciamo in una condizione di peccato originale che è sta roba qua una colpa di un altro che eredito io no il peccato originale una condizione ferita nella quale nasciamo perché perché i nostri progenitori creati in comunione piena con dio con il peccato hanno rotto questa relazione di amicizia e l'umanità è caduta cioè potremmo dire si è ferita e quindi si propaga ci si trasmette una condizione ferita qual è questa condizione ferita dove la sperimentiamo dove la avvertiamo in quella latente inclinazione al male in quella tendenza a vivere per noi stessi in quella paura della morte che ci porta a non riuscire ad amare a perderci a donarci fino in fondo ma soltanto ad arrivare a un certo punto per poi preservare noi stessi ecco qui tocchiamo un aspetto molto profondo della nostra vita che è proprio la paura della morte che secondo la lettera agli ebrei ci tiene tutti sotto scacco matto e il diavolo qua ci tiene prigionieri che cosa è in fondo la paura della morte miei cari la paura della morte non è solo la paura della fine della vita cioè del momento puntuale in cui finirà la vita e si scinderà l'anima dal corpo ma in fondo l'esperienza della morte è un'esperienza che ci accompagna ogni giorno perché perché la vita scorre avanza inesorabile e noi vogliamo vivere vogliamo custodire giustamente la nostra vita preservarla dai pericoli ma tante volte proprio per questo cercare di preservarci viviamo prigionieri dell'egoismo cioè evitiamo qualsiasi forma di amore di dono di noi stessi oppure attacchiamo il cuore ad esempio a false sicurezze un esempio su tutti perché la gente attacca il cuore al denaro non solo per il benessere per i benefici che ti può dare ma perché fondamentalmente si pensa che con più soldi si è più sicuri quindi io penso di risolvere la precarietà della mia vita attaccandomi al denaro ora nel caso dell'amore qui la cosa si fa più seria ogni atto d'amore autentico in fondo che cosa è è un perdermi di vista perdonarmi all'altro per il vero bene dell'altro ora finché l'altro mi dà un qualche ritorno ce la faccio ma quando la persona che ho davanti non ricambia mi tratta male non corrisponde e la cosa va avanti io arrivo al punto che non ce la farò più non solo mi chiedo ma perché devo farlo ma non ce la faccio più e tiro giù i battenti cioè tradotto perché io dovrei dare la mia vita per te e perder la mia vita per te non sono disposto io voglio preservare la mia vita ora io non voglio fare una casistica di relazioni da portare avanti o meno di casi particolari solo mettere in luce una dinamica estremamente profonda che sta alla base anche di nostre tante piccole difficoltà relazionali allora noi abbiamo questa condizione ferita noi nasciamo in questa condizione ferita che la chiesa ci dice è una condizione di distacco da dio cioè noi nasciamo distaccati da lui per dire in modo semplice dio ci ha a cuore ma non è nel nostro cuore allora cosa succede cosa ci dice il mistero della trinità cosa ci dice il testo che abbiamo sentito oggi che la seconda persona della santissima trinità si è fatta uno di noi cioè si è compromessa al punto da farsi uomo per salvarci per riconciliare l'umanità con dio e dunque e dunque offre a tutti la possibilità nella fede in lui cioè credendo in lui aderendo a lui di essere salvati cioè di essere innestati nella santissima trinità come dei rametti al tronco ecco noi per nascita siamo come un rametto staccato dal tronco senza la linfa dell'eternità possiamo essere innestati in dio e diventar partecipi del suo spirito questo innesto avviene concretamente nel battesimo dove veniamo uniti vitalmente a cristo l'unione con lui poi andrà alimentata nell'arco della vita con la preghiera la vita sacramentale lasciandoci guidare dal vangelo nelle nostre scelte di vita posso quindi iniziare vivere davvero una vita nuova lasciandomi plasmare ad immagine e somiglianza di cristo diventando fino in fondo figlio di dio la trinità quindi miei cari è qualcosa di decisivo per la nostra vita ma non solo guardando la trinità in sé possiamo cogliere qualcos'altro di molto bello che ci riguarda infatti noi siamo creati a immagine e somiglianza di dio quindi se capiamo qualcosa in più di dio capiamo qualcosa anche di noi stessi abbiamo visto nel testo del vangelo che potremmo dire la dinamica che muove la trinità è l'amore perché la natura profonda di dio è l'amore san giovanni infatti ci ha detto che dio è amore ora facendoci aiutare da sant'agostino noi sappiamo che in dio c'è un amante che è il padre che riversa il suo amore si dona al figlio che è l'amato che accoglie questo amore lo ricambia l'amore tra i due è lo spirito santo chiamato l'amore in persona cioè in dio ogni persona è pienamente se stessa in quanto è dono di sé in effetti il termine persona significa essere relazionale e le persone divine si chiamano relazioni sussistenti cioè sono sempre in una relazione di dono d'amore proprio per questo sono pienamente se stesse uno potrebbe dire amma mia che è difficile no tranquilli è semplice ogni persona è pienamente se stessa perché è pienamente dono di sé questo cosa vuol dire noi siamo creati a immagine e somiglianza di dio siamo persone quindi siamo creati per la relazione vuol dire che noi ci realizziamo come persone come uomini e come donne e fino in fondo come figli di dio nella misura in cui impariamo ad amare in cui sappiamo vivere relazioni belle piene significative siamo creati ad immagine e somiglianza di dio che è comunione quindi siamo fatti per la comunione per quello l'isolamento la solitudine egoistica sono alla fine l'anticamera dell'inferno che sarà l'eterna solitudine capite bene però che se noi siamo feriti abbiamo questa inclinazione al male comunque questa tendenza all'egoismo se noi non apriamo il cuore a cristo non accogliamo il suo santo spirito questa maturazione è proprio piena meravigliosa questo diventare capaci di amare da dio questo essere divinizzati in fondo trasformati lui sarà impossibile dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza ci ha creato capaci di accoglierlo e solo se lo accogliamo pienamente diventiamo pienamente noi stessi guardando la trinità possiamo capire qualcosa in più di noi innestandoci nella trinità per mezzo della fede in cristo possiamo diventare pienamente noi che il buon dio vi benedica cari amici pace e bene a tutti